Buonasera a tutti e bentrovati per questo nuovo appuntamento con il Festival Musica Sibri 2021. Questa sera alle 21.30 verrà trasmesso in streaming il concerto dal titolo per le musicali. Si tratta del terzo appuntamento dall'inizio della rassegna ed il secondo che viene dato con modalità streaming. Il primo era una conferenza, una piccola chiacchierata, questo invece è un appuntamento a sfondo musicale. Il protagonista di questa serata è l'assamble dei solisti ambrosiani e in particolare avremo Emma Bollaperte a Cravi Cembalo, Davide Belosio Violino, Claudio Frigerio a Veroncello e Tullia Pedersole il soprano. Questa serata è dedicata ad alcune perle, ad alcuni piccoli capolavori del barocco, quindi avremo la vicendarsi di diversi compositori, da Domenico Scarlatti a Giovanni Felice Sanchez, passando per Dario Castello, per Domenico Gabrielli e Giovanni De Grenzi, quindi veramente una panoramica abbastanza articolata che speriamo potrà incontrare il vostro gradimento. Vi aspettiamo qui da Appenture 30, il link raggiungibile dal nostro canale YouTube. A visitarvi!